Salve, buongiorno e benvenuti in questo primaverile aprile. Io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Te lo dico io, in cui vi svelerò tutte le uscite cinematografiche della prima metà del mese. Siete pronti per una full immersion? Partiamo allora immediatamente da Succede, l'intenso diario delle emozioni, delle sensazioni, dei sentimenti di Margherita, Meg, e dei suoi amici, quattro adolescenti, che condividono tutto. Da un'alba milanese a un rifugio sul tetto, le sneakers blu, la camicia di jeans, la musica nelle cuffie, La scuola e i primi battery. Tratto dal romanzo della youtuber Sofia Viscardi, il film è diretto da Francesca Mazzoleni, e nel cast ci sono Margherita Morchio e Matteo Giuggioli. Lo trovate il 5 aprile in sala, altrimenti potete immergervi in Il mistero di Donald C., un dramma biografico che racconta l'incredibile storia vera di Donald Crowhurst, velista amatoriale che partecipò alla Golden Globe Race del Sunday Times nel 1968, con la speranza di diventare la prima persona della storia a circunnavigare il globo in solitaria senza soste. Con una barca non completamente pronta e la propria casa e il lavoro a rischio, Donald lascia la moglie Claire e i loro figli, imbarcandosi non senza esitazioni nell'avventura a bordo del trimarano, Cade Muth Electron. Diretto da James Marsh, che conosciamo già per la teoria del tutto, nel cast invece troviamo Colin Firth, David Dulles e Rachel Weisz. Anche questo in sala dal 5 aprile. Horror a cardiopalma. Che ne pensate allora di farvi staccare un biglietto per A Quiet Place? Una famiglia vive un'esistenza isolata nel silenzio più assoluto, per paura di una minaccia sconosciuta che segue solo il suono e attacca qualsiasi rumore. John Krasinski, alla sua terza regia, è anche protagonista della pellicola, insieme a Emily Blunt, moglie nella finzione ma anche nella vita vera. Tutto in famiglia per questo horror che vi ricorderà il valore del silenzio. In sala dal 5 aprile, oppure quanto basta. Arturo è uno chef talentuoso. Finito dentro per una rissa, deve scontare la pena ai servizi sociali, tenendo un corso di cucina in un centro per ragazzi autistici, dove lavora Anna. Guido invece ha la sindrome di Asperger e una grande passione per la cucina. L'improbabile amicizia tra i due aiuterà Arturo a cambiare vita. Commedia italiana, diretta da Francesco Falaschi, con Valeria Solarino e Vinicio Marchioni. Di nuovo dal 5 aprile in sala. Andiamo ora un po' più in là con il tempo e spostiamoci al 12 aprile con Rampage, furia animale. Il primatologo Davis è un uomo schivo, condivide un legame indissolubile con George, un gorilla silverback straordinariamente intelligente, di cui si occupa della nascita. Ma un esperimento genetico scorretto e dai risultati catastrofici trasforma la gentile scimmia in un'enorme creatura furiosa. A peggiorare le cose, ben presto si scopre che altri animali sono stati modificati allo stesso modo. Davis si allea con uno screditato ingegnere genetico per creare un antidoto. Fantascienza, azione e avventura per questa pellicola diretta da Brad Payton, che ricorderete per San Andreas, Viaggio nell'Isola Misteriosa e Frontiera. Payton torna anche qui a lavorare con Dwayne The Rock Johnson, ma ci sono anche Naomi Harris, Malin Ackerman, Jeffrey Morgan e Joe Manganiello. E chiudiamo questa prima metà del mese con Io sono Tempesta. Numa Tempesta è un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da solo nel suo immenso hotel deserto, pieno di letti in cui lui non riesce a chiudere occhio. A causa di una vecchia condanna per evasione fiscale, dovrà scontare un anno di pena ai servizi sociali in un centro di accoglienza. Commedia italiana diretta da Daniele Lucchetti con Marco Giallini e Elio Germano. Dal 12 aprile al cinema. Questo era tutto per oggi, fatemi sapere in un commento qui sotto quali sono i film che non vedete l'ora di vedere. Grazie per aver guardato, iscrivetevi ai social e al canale di Screen Week e anche avanti a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks e su www.violetta.rocks Ai prossimi appuntamenti, ciao!